Ma ciao! Allora, Trump? Lo danno tutti per sfacciato? Io personalmente no, ma non ci interessa tanto chi vince o chi perde. Oggi parliamo di cosa potrebbe succedere ai mercati e in particolare ad alcuni titoli se Trump dovesse vincere. Nello scorso video vi ho parlato di Biden, lo trovate qui in alto e abbiamo discusso appunto quali titoli e quali settori potrebbero beneficiare di una sua presidenza. In questo caso invece andiamo a vedere la parte opposta, la parte repubblicana, ossia Trump. Ma di tutto questo ne parliamo dopo la sigla. Benvenuti a tutti in questo nuovo video, io sono Pietro e Trump. Trampolo, caro Trump. Tra l'altro avete visto l'ultimo dibattito, cioè è riuscito effettivamente a stare a cuccia e non interrompere. Pazzesco, cioè si meriterebbe un applauso. O forse è solo demenza semile. Vabbè in ogni caso andiamo avanti. Trump nell'ultimo dibattito ha detto una cosa che a noi come investitori interessa particolarmente, che è questa. Sono d'accordo? È davvero così? Trump viva la borsa? Biden tutto crolla? No, non è assolutamente così. Come ho spiegato già in un altro video, ciò che non piace ai mercati è l'incertezza. Se Biden o anche lo stesso Trump dovessero vincere con uno scarto minimo, ecco che allora si parlerebbe di politiche più incerte, di decisioni conflittuali tra Camera e Senato. Quindi è l'incertezza che non piace ai mercati. Una vittoria schiacciante di uno dei due va comunque bene. Oggi però andiamo a vedere quali sono le aziende o settori che potrebbero beneficiare di una vittoria repubblicana. Visto che lo scorso video di Biden era partito con l'energia, anche in questo caso partiamo con l'energia. Trump, a differenza di Biden, potrebbe spingere su un'altra fonte energetica, il petrolio. Trump ha più volte vantato di aver reso l'America indipendente dal punto di vista energetico e da questo punto di vista ce l'ha fatta con fonti non rinnovabili, quindi petrolio e gas. Lo shale oil, il petrolio di scisto, è sempre stato criticato fin dalla sua nascita perché è molto impattante sull'ambiente, è molto inquinante. Però a tutti gli effetti una presidenza Trump potrebbe continuare a caldeggiare almeno per qualche anno questo settore, quindi aiutarlo a recuperare. In questo caso però più che dirvi una singola azienda vi rimando a un intero settore, quindi ad un ETF. Questo ETF investe in aziende energetiche americane e la maggior parte di queste è proprio legate al petrolio. Ad esempio ci sono Exxon e Chevron che sono le due aziende più grandi, ma ci sono anche altre aziende, le cosiddette midstream, che non si occupano di estrazione del petrolio ma di tutta la fase di mezzo, quindi dello smistamento, della logistica, cose del genere. Ovviamente anche in questo caso potete posizionarvi su singole aziende, però a mio avviso non cambierà più di tanto perché dipenderà tutto dall'andamento del settore. Secondo settore di oggi, difesa. Nell'ultimo video su Biden ci eravamo lasciati con un'affermazione abbastanza particolare, ossia avevo detto che le aziende che armano altri paesi, come ad esempio l'Europa, potrebbero beneficiare di una presidenza Biden e continuo a pensare che sia così. Aziende quindi come Lockheed Martin, che hanno una forte componente estera nei ricavi, potrebbero crescere più sotto una presidenza Biden che non su una molto apparentemente guerra fondaia come quella Trump. Discorso diverso però per le aziende produttrici di armi che vendono esclusivamente agli Stati Uniti. Se andiamo infatti a vedere il budget per la difesa nella presidenza Trump è decisamente salito, quindi possiamo pensare che si continuerà sulla stessa linea. Uno però dei problemi delle aziende che si occupano di difesa nazionale è che sono coinvolte anche in altri settori oltre a quello militare e uno dei più blasonati è quello di aviazione, quello aeronautico. Siccome però sappiamo come sta andando il mondo dell'aeronautica e dell'aviazione adesso, in particolare quella civile, ossia malissimo, è meglio evitare queste aziende come Boeing, ad esempio, Raytheon o Airbus, che hanno grandissimi contatti col Pentagono, però hanno anche grandi contatti con le compagnie aeree. Un'azienda che non ha questo problema l'ho trovata ed è Northrop Grumman. Non so se si pronuncia così. Northrop si occupa di vari ambiti, sempre nel militare, da aviazione, terra, mare, sicurezza informatica e perfino spazio. Uno dei punti positivi è sicuramente la redditività, che è decisamente alta. Se poi andiamo a vedere i bilanci è confermato quello che dicevo, quindi con i democratici il fatturato di questa azienda è calato, mentre con Trump è tornato a crescere, anche a ritmi parecchio alti, considerato il settore. In più, un punto da non trascurare è il dividendo, che aumenta regolarmente nonostante il payout sia continuamente basso. Non è altissimo, però, come ho già detto, quando si tratta di dividendi la stabilità è molto meglio di un grande rendimento. Terza azienda di oggi, e qui sarò breve. Una delle grandi battaglie di Biden è quella di togliere le carceri dalle mani dei privati, da aziende privati che le posseggono e le gestiscono. Due di queste, le due principali, sono GeoGroup e CoreCivic, che sono appunto le due aziende più grandi del paese. Potete immaginare, con una vittoria di Biden data quasi per certa, come queste due aziende stiano andando in borsa, ossia, da schifo. Se a tutto ciò aggiungiamo anche che Biden vorrebbe depenalizzare alcuni reati legati all'uso di sostanze stupefacenti, andrebbe quindi a svuotare, in un certo senso, le carceri, o meglio, a ridurre la popolazione carceraria, e quindi andrebbe a danneggiare direttamente queste aziende. Una vittoria di Trump, invece, andrebbe a favorire moltissimo le aziende, perché toglierebbe tutta questa preoccupazione, questo dibattito sul privato o pubblico, dai giochi. Prima di passare al prossimo punto, però, devo dirvelo. Mi sembra che la tendenza a sfruttare il gestore privato di carceri sia un po' in calo. È da anni, in realtà, che si dibatte su questa cosa negli Stati Uniti, e sembra che la direzione sia quella di andare verso un modello come il nostro, in Italia, dove il carcere è gestito a livello statale. Quindi non è detto che una presidenza a Trump non faccia altro che ritardare la fine di questo modello, che comunque non avverrà dall'oggi al domani, anche dove deve vincere Biden, però è già in calo. Insomma, come sempre, grande rendimento, ma anche grande rischio. Quarta azienda, Twitter. Ma come Twitter? Trump e Twitter litigano tutti i giorni, censura di qua, tweet controversi di là. Perché vi dico Twitter? È proprio per quello, perché litigano. E quindi Twitter, attraverso i tweet di Trump, attraverso il nuovo modo di comunicare di Trump, è stato reso molto più popolare. Trump, a tutti gli effetti, anche nonostante tutte le critiche, ha portato un sacco di traffico in più a Twitter. E quindi una sua presidenza, ricca di nuovi messaggi poco istituzionali e molto diretti su Twitter, non farebbe altro che continuare a rendere popolare la piattaforma. Quindi se c'è una delle aziende che più direttamente può beneficiare proprio delle caratteristiche personali di Trump, quella è proprio Twitter. Azienda 5 di oggi, United Health. Nello scorso video abbiamo parlato di come Biden andrebbe a rafforzare Medicare e quindi andrebbe a indebolire tutte le assicurazioni private che forniscono servizi privati, e quindi abbastanza cari ai cittadini. Se invece Trump dovesse vincere, secondo lui, andrebbe a insistere più sul prezzo dei farmaci, che è qualcosa che innanzitutto dubito che andrà a fare, però anche dovesse farlo, non va a inficiare direttamente i margini delle assicurazioni, ma anzi, tendenzialmente queste rimangono intoccate. Chi ci perde sono effettivamente le aziende che vendono farmaci o che li rivendono. United Health, proprio per il suo tipo di business, è un'azienda fantastica. Fatturato e utile crescono in modo stabile, e la stessa cosa fanno anche i dividendi ormai da anni. Il rischio più grande per aziende come United Health è proprio quello politico, quindi che arrivi un nuovo politico, un nuovo presidente, che cambi completamente la linea in termini sanitari, e il sistema sanitario americano è spesso criticato, quindi questa cosa potrebbe accadere. Con una presidenza Trump però dubito cambi qualcosa, quindi potrebbe essere un buon titolo su cui puntare. Numero 6. Probabilmente, come ho detto nello scorso video, se si arrivasse a un contesto di camere miste, quindi se anche dovesse vincere Trump, ma la Camera restasse ai democratici, allora si avrebbe un congresso molto più diviso su questioni macro. E questo scenario di divisione è perfetto per le big tech per continuare a crescere in modo indisturbato, senza che nessuno possa mettere becco. È difficile infatti che gli stessi Stati Uniti mettano dei freni a queste aziende, che comunque sono aziende nazionali, che diffondono messaggi americani in tutto il mondo, e che fanno concorrenza ai cinesi. Quindi, lo ripeto come ho detto nello scorso video, se Trump dovesse vincere con uno scenario di camere miste, allora Google, Facebook, Amazon, queste qua, potrebbero continuare a crescere in modo indisturbato. Si può investire singolarmente su queste aziende, oppure, per come è distribuito oggi, anche un ETF sul Nasdaq potrebbe essere una valida soluzione. Dobbiamo capire che per gli americani, aziende come Amazon, Google, Facebook, queste qua, non hanno solo un carattere economico, che comunque rafforza gli Stati Uniti come superpotenza, ma anche un carattere politico, che di nuovo diffonde l'idea di americanità nel mondo. Quindi è molto importante lasciare abbastanza spazio di manovra a queste aziende. Anche in questo caso c'è il rovescio della medaglia, ossia il Nasdaq nel suo intero, ma anche le singole aziende che lo compongono, è abbastanza sopravvalutato. Almeno, secondo me. Comunque si va incontro a uno scenario di crescita economica molto moderata, se vogliamo parlare di crescita, e aziende che vendono pubblicità non possono aspettarsi di fare grandissimi numeri. Anche un'azienda come Amazon, che realizza moltissimo fatturato dalla vendita da e-commerce, beh, se le persone sono più povere, non ci si può aspettare perlomeno una crescita a doppia cifra. Stiamo nella politica, e anche in questo caso, come nello scorso video, voglio stupirvi. Ci sono due paesi in particolare, che potrebbero beneficiare di una presidenza Trump. Sono sicuro che non state pensando a questi due paesi, perché sono Cina e Russia. Ok, forse sulla Russia qualcuno poteva arrivarci. Guardiamo semplicemente Nord Stream 2, un importante gasdotto ormai quasi ultimato, che collegherebbe Russia e Germania. In uno scenario di relazioni tra Europa e Nord America sempre più debole, sempre meno influente, la Russia potrebbe tranquillamente andare a coinvolgere di più l'Europa, sia sotto un piano economico, ma anche sotto un piano politico. Stesso discorso per la Cina. Trump, è vero, sta facendo una guerra commerciale alla Cina, ma questo per quanto riguarda i loro scambi, non per gli scambi che la Cina realizza con altri paesi. La nuova via della seta, per capirci in tutto ciò, continua a sembrare sempre più probabile, a meno che, di nuovo, non cambi la linea completamente in Europa, cosa che, secondo me, potrebbe accadere solo con una presidenza Biden. È normale quindi che l'Europa, che ricordiamolo, sì, non è la top potenza della vita, però comunque un grandissimo potere d'acquisto, stia avvolgendo lo sguardo a Est. E questo, chiaramente, andrebbe a far crescere potenze come Russia e Cina. Quindi, se dovesse essere effettivamente eletto Trump, io, personalmente, in particolare sulla Cina, potrei raddoppiare. Poi, ovviamente, io lo dico adesso, ma poi le valutazioni e gli ingressi li farò solo ad esito fatto, ad esito compiuto. Voglio anche vedere come Trump si insedia, come vanno a cambiare le politiche internazionali, se seguiranno il percorso degli ultimi quattro anni, oppure no. Quindi, ora ne stiamo parlando, poi si farà, effettivamente. Per questo video, ragazzi, è tutto. Se, come al solito, il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace qua sotto, iscrivetevi, Instagram cose, insomma, tutte le cose che gli YouTuber vi dicono di fare, fatele. Per ogni campanella non schiacciata uno YouTuber piange. Già. Per questo video, quindi, è davvero tutto. Io vi saluto e alla prossima. I'm gonna throw my memories away Now I feel undone And I am cursed by every day Till my time is gone